Dieci tecniche di seduzione per sedurre facilmente una donna. Allora, la prima tecnica è quella dello status sociale, cioè farti percepire come di uno status sociale elevato, un uomo di valore elevato. Per fare questo dovrai squalificarlo un pochettino, trattarlo un po' con sufficienza, perché tu ti elevi se abbassi lei un po'. In questo modo, diciamo, scatterà un meccanismo ancestrale per cui le donne vanno a cercare uomini di elevato status sociale, più potenti, più forti. Questa è un po' una caratteristica base. La seconda strategia è quella di non darle, come dire, vuoi sedurre lei? Trattala con sufficienza. Fai vedere che non c'è tutto questo interesse nei suoi confronti e trovati una spalla, un'altra donna che invece dica che sei un uomo veramente interessante. La spingerà a cercarti. Terza tecnica utilizza la psicologia inversa. Allontanati da lei. Dirà, ma secondo me quello è l'uomo giusto per te. Come dire, ordinandole di andare a nord, lei andrà a sud. Quarta tecnica è riprova sociale. Circondati di altre donne che ti corteggiano, che ti seducono. Quinta tecnica, sia imprevedibile. Dai, interrompi gli schemi. Non essere identificabile. Devi essere misterioso. Anche qua, un uomo misterioso appare come più intrigante, come più interessante. Sesta tecnica, cerca di essere un leader. Le donne giudicano alfa, gli uomini che guidano altri uomini, che sono interessanti per altri uomini, che sono leader di altri uomini. Settima tecnica, utilizza molto l'icontact. Guardarla negli occhi. Guardarla negli occhi è molto importante perché le crea quella tensione, diciamo, e anche qua viene visto come un maschio di livello superiore. Ottava tecnica, crea una tensione sessuale attraverso doppi sensi. Utilizza delle parole venire, penetrare, bisogna penetrare fino in fondo. Ecco, in modo analogico andrai a, come dire, stuzzicare i suoi appetiti sessuali, i suoi ormoni. Tecnica 9, stuzzicala, flirta, gioca, fatti vedere come un uomo giocoso, gioioso e che le produce emozioni positive. Tecnica 11, cerca di intrigarla in qualche modo. Vale amplificare emozioni compresse e vedrai che si innamorerà di te. Paura, dell'abbandono, della desistima, del rifiuto, tutte emozioni che possono coinvolgere. Seguimi su Instagram, assieme a Tremasco Ufficiale.